Alejandro Iñárritu può dirsi decisamente soddisfatto della notte degli Oscar che lo ha visto trionfare con Birdman come miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura originale e anche miglior fotografia. Il regista è stato chiamato sul palco del Dolby Theatre da Sean Penn che, dobbiamo dirlo, gli ha rubato la scena. L'attore infatti, prima di annunciare il vincitore, ha esclamato davanti alla platea e al mondo intero. Chi ha dato la green card a questo figlio di Pooh? La battuta sul riferimento al permesso di soggiorno agli immigrati ha inizialmente gelato il pubblico, che poi si è lasciato andare ad una fragorosa risata e a scroscianti applausi, insieme al diretto interessato che è di origini messicane. Iñárritu poi ha risposto, probabilmente l'anno prossimo il governo inaspirà le regole sull'immigrazione per la cerimonia degli Oscar, in particolar modo per i messicani, sospetto. Il regista ha comunque chiarito che sin dalla collaborazione sul set di 21 Grammy c'è una grande amicizia con Sean Penn. Iñárritu poi ha risposto, probabilmente l'anno prossimo il governo inaspirà le regole sull'immigrazione. Iñárritu poi ha risposto, probabilmente l'anno prossimo il governo inaspirà le regole sull'immigrazione.